Succede anche questo tra due arci nemici che per un giorno discutono amabilmente sui banchi di Montecitorio. Ma Silvio Berlusconi e l'anti-berlusconiano doc Antonio Di Pietro non hanno in mente di fare un governo insieme. Di Pietro ha rivelato che il Cavaliere voleva convincere del fatto che il suo governo fa il bene del paese. Io gli ho risposto che il sottoscritto leader dell'opposizione è convinto che farebbe il bene del paese se il suo governo se ne andasse. Eppure il suo intervento, più ostile all'opposizione che alla maggioranza, ha fatto mugugnare non poco il PD. Ho sentito dire l'onorevole Martino prima quando diceva appunto voi cosa offrite in alternativa. Bene, io lo devo dire qui davanti a tutti pubblicamente. Non lo so, non lo so perché non ho ancora avuto una riunione con gli altri leader del partito dell'opposizione.